Iniziamo a sviluppare in Flutter. Creeremo delle app mobile? Sì, sì, creeremo delle app mobile. Che cos'è Flutter? Flutter è un ecosistema, diciamo, sviluppato da quelli di Google, che si appoggia su un linguaggio di programmazione che è Dart e serve per creare delle applicazioni multipiattaforma. Serve per creare applicazioni multipiattaforma con una singola codebase. Quindi scrivo una volta e posso creare un'applicazione sia su iOS sia su Android, un'applicazione web, un'applicazione per l'iPad, per qualunque tablet con Android, un'applicazione per Windows, un'applicazione per Mac, con una singola codebase. Posso creare tante, diciamo, con una singola codebase, posso creare delle applicazioni che possono essere trasversali a più sistemi. Il primo, diciamo, scoglio, e noi li faremo tutti quanti i passaggi perché, se no, altrimenti diventa una lezione solo su questo, però vi faccio vedere dove sono questi passaggi. Praticamente li troviamo, come vedete, su Flutter Dev. Questo è il centro per chi sviluppa in Flutter. Di vero c'è un altro sito web molto importante, ma lo vedremo nelle prossime lezioni. Praticamente in Flutter Dev descrive quello che fa Flutter. Quindi costruisci, quindi sviluppa per qualunque schermo, qualunque esso sia. Nel Get Started vediamo come iniziare per poter sviluppare con Flutter. Quindi in base al nostro sistema operativo possiamo iniziare a creare un determinato tipo di applicazione. Non vi nascondo che in realtà c'è un'altra applicazione, vediamo se riesco a farvela vedere, che è Flutter Flow. Non so se l'avete mai conosciuta, se l'avete mai vista, ma cosa ci permette? Aspetta che ve la introduco qui. Eccolo qui. Vi permette di poter creare delle applicazioni in Flutter tramite un editor Wisewig. Ora, noi inizieremo a vedere Flutter Flow, però sappiate che c'è. Addirittura, se non ricordo male, Flutter Flow permette di convertire da Figma ad applicazione. Se non ricordo male, oppure c'è un plugin, adesso sinceramente non mi ricordo. Però prima di iniziare magari a sviluppare o creare applicazioni con Flutter Flow, quello che vi consiglio è... Intanto seguitemi, perché vi spiego un po' di trucchetti e di cose che ci sono dentro all'interno dell'ecosistema di Flutter. E sarebbe importante capire com'è la filosofia di Flutter. Com'è la filosofia di Flutter? Flutter si sviluppa in Dart, questo abbiamo detto prima, ma è composto da widget. Vedete qui, nell'esempio di Flutter Flow, fanno vedere tutti questi widget che con un drag and drop si crea praticamente l'interfaccia. Ok? Ora qualcuno potrebbe dire, vabbè però, se io sviluppo un'applicazione iOS, magari lo switch è diverso rispetto a quello Android, è vero. C'è la possibilità appunto di creare delle interfacce, diciamo, idonee al sistema operativo dove siamo. Però è anche vero che ormai il fatto di avere delle interfacce che sono più o meno simili anche sui dispositivi diversi è ormai accettato. Comunque sia, non è che si differiscono molto tra di loro. Ok, chiudiamo Flutter Flow. E in base al sistema operativo dovete iniziare a selezionare e a creare praticamente il vostro ambiente di sviluppo. Ad esempio, se avete cliccato Windows, qui ci chiede qual è la tua prima applicazione e cosa vuoi sviluppare? Un desktop, un web, Android? Ovviamente, siccome noi vogliamo andare a sviluppare app mobile, andremo a selezionare Android. Secondo me Flutter, per creare applicazioni mobile, è veramente, veramente molto semplice. Ci ha dei difetti, che magari andremo a vedere assieme, però secondo me è un bel ecosistema proprio per poter andare a sviluppare applicazioni mobile. Qui ci sono i requirement di sistema, poi praticamente cosa dice? Che bisogna installare Git, ok, quindi dalla 2.27 o superiore. Android Studio, ok, questa è la versione, ma in realtà vi consiglio di installare l'ultima versione di Android Studio. Potete anche sviluppare con Visual Studio Code, ma intanto, comunque sia, dovrete installare Android Studio. Quindi, bisogna comunque sia installare Android Studio, soprattutto se sviluppate applicazioni mobile. Dopodiché, bisogna installare l'SdK di Flutter. E qui, praticamente, se andiamo qui, c'è la possibilità di scaricare questo zip. Lo si scarica, ok. Bisogna creare un folder. Io, ad esempio, siccome ho tre dischi, l'ho messo sulla root di uno dei tre dischi, ok. Quindi, so dov'è la mia installazione Flutter. E, dopodiché, aggiornare il Windows Path Variable. Cioè, bisogna impostargli qual è il path da dove eseguire Flutter. Perché poi diventerà molto più comodo. Qui, comunque, è tutto quanto descritto. Perdonatemi, non faccio tutti quanti i passaggi, perché sarebbe veramente molto lungo. Anche perché bisogna scaricare, installare, configurare. Probabilmente è anche da riavviare. E in una live non riesco a farlo. Dopodiché, una volta che avete configurato Flutter, dice di lanciare per la prima volta Android Studio. Creerà nel Welcome Display di Android Studio. Dovremmo fare il setup, il setup wizard. A quel punto, installare gli SDK di Android. Ovviamente, se siete sul Mac, dovreste installare, sicuramente vorreste installare Xcode in maniera tale da fare sviluppo su iOS, ok. E, ovviamente, per creare applicazioni iOS, dovete per forza avere un Mac. Su Windows è impossibile. Dopodiché, ma adesso faremo qualche passaggio assieme, dice di configurare il target Android. La cosa veramente, veramente, passatemi il termine, figa di Flutter, è che io posso, se ho messo la modalità developer all'interno di un dispositivo fisico, ad esempio il mio telefono, ok, posso sviluppare un'applicazione Flutter vedendola direttamente sul mio telefono fisico. Quindi, questo veramente, è veramente molto figo, anche perché, cosa succede? Che posso cambiare il layout guardandolo veramente su un dispositivo fisico. Quindi, non su un emulatore, ma posso cambiare senza dover rideployare la pick-up, quindi vedo direttamente in tempo reale, cambio un qualcosa sul codice e automaticamente ce l'ho aggiornato anche sul display fisico. Ovviamente, qui, per il display fisico, dice cosa fare, quindi abilitare la developer mode e l'USB debugging all'interno di Android. In realtà, è possibile anche abilitare il wireless debugging. Quindi, senza dover essere collegato fisicamente tramite USB, posso, tramite QR code, abilitare il wireless debugging. Altra cosa veramente molto, molto figa, perché non devo nemmeno essere collegato con il telefonino. Ovviamente, a discapito, ne va della batteria, ok? E qui, poi, c'è tutti quanti i passaggi per poter configurare wireless. A dire il vero, quelli di Google hanno creato un'altra modalità, che è tramite Firebase, di cui abbiamo già parlato ampiamente per il corso di Angular, che permette di creare delle applicazioni su, non so se siano degli emulatori Android, comunque su Android e all'interno di Firebase. Ovviamente, questa è un'opzione a pagamento. Per controllare il tutto, alla fine, dovremo fare Flutter Doctor. Ora, andiamo a vedere assieme Flutter Doctor, ok? Andiamo in transazione, ok? Eccolo qui. Ora, qui, in realtà, non c'è il terminale, ok? Non ce l'ho. Però, la prima volta che lancerete Android Studio, ci sarà una welcome page un po' più, poco completa. Ora, da questa finestra, qui, praticamente, c'è... Magari se ripiccolesco questo, perfetto. E abbiamo, praticamente, gli SDK, le piattaforme. Come vedete, fino all'ultima, io ho installato la 13, anche perché ogni installazione dell'SDK, insomma, porta via un po' di spazio, ok? Quindi, vabbè, qui la 12 ce l'ho già installata, ho installato la 12 e la 13, però è essenziale selezionare almeno un SDK, in SDK Tools installare la versione, magari la stabile, quindi nel mio caso è la 34, ok? E poi dare OK e andrà ad aggiornare il tutto, ok? Quindi, questi sono i passaggi essenziali. Come vedete, io poi l'ho messo su questo disco, proprio perché così so dov'è sia l'SDK e sia dov'è Flutter, ok? Niente di complicato, niente di tutto molto semplice, tutto quanto scritto sul sito, ok? Quindi dovete seguire passo passo, io non ho trovato, diciamo, grandi problemi nel poter creare, appunto, questa installazione. Perfetto, allora, una volta che avete finito dovrete fare Flutter Doctor. Quando farete Flutter Doctor, oltre a darvi l'indicazione se avete installato tutto, quindi è tutto quanto a posto, dovrete accettare anche le condizioni di licenza per quanto riguarda l'SDK. Ma è tutto quanto molto molto semplice. Purtroppo questo non ve lo posso far vedere, ma vi posso far vedere il Flutter Doctor. Allora, come vedete c'è New Flutter Project. Noi creiamo New Flutter Project, mi chiede, vedete la finestra, qui seleziono Flutter, faccio Next, mi dice dove voglio metterlo. Allora, in questo caso, qui, facciamo così. Invece di on-title, magari, prima puntata. New Flutter Project, il type dell'applicazione, ovviamente è un'applicazione, quindi metteremo qui. Com.example, per chi fa Java, questo è il tipo, il namespace di Java, quindi, qui possiamo mettere, invece di example, web 7.6, questo lo lasciamo così, e noi andremo a sviluppare, per il momento, soltanto Android e iOS. Ovviamente, se lasciamo, anzi, lasciamo anche la parte web, ok? Quindi, qui, mi dice, dove voglio metterlo, prima puntata, ok. E diciamo, create. L'ha creato? Benissimo, dovreste vedere il mio Android Studio. Se vado sul terminale, se vado sul terminale, non lo vedo, mi sembra corretto, eccolo qua. Se vado sul terminale, ecco qui, sono già, sono già nella cartella appropriata, se io qui scrivo Flutter Doctor, come vedete, adesso inizia a fare la scansione del sistema, va a verificare che sia tutto quanto installato correttamente, perfetto, mi dice che il Flutter è installato, Android Toolchain è installato, Chrome c'è, mi dice che non c'è il Visual Studio, manca il componente necessario. Noi non sviluppiamo applicazioni, nel momento, per Windows, quindi non ci serve in questo momento, c'è più plus, quindi questo, infatti, lo segna come punto sclamativo, quindi è se è un tanto un warning. Android Studio è a posto, WS Code è a posto, ovviamente, se volete, potete usare Visual Studio Code, ma per comodità, e adesso capirete anche perché, conviene per questa live usare, usare praticamente Android Studio. Ok? Ora, andiamo a fare una prima, diciamo, una prima ispezione per quanto riguarda la nostra applicazione. Ovviamente questa visualizzazione non mi piace, mettiamo a project, ecco, questa praticamente è l'estensione della nostra applicazione. Allora, tralasciando queste due cartelle, che in realtà sono dei settaggi di sistema, eccetera, possiamo individuare la cartella Android, che è tutto ciò che riguarda lo sviluppo per un'app di tipo Android. La cartella iOS, che riguarda lo sviluppo di un'app iOS, e la cartella web, che identifica quello che andrà a crearsi per un'applicazione web. Su test, abbiamo quello che riguarda il testing, però noi non affronteremo il testing e con Flutter. L'analisi options, per quanto riguarda l'analisi della nostra applicazione. Lasciamo perdere l'AML. PubSpec è quello che determina, ad esempio, il nome della nostra applicazione, la descrizione, la versione della nostra applicazione, l'environment, le dipendenze. Ecco, qui su questa dipendenza, come vedete, abbiamo la dependency Flutter, SDK Flutter. Questo è essenziale, affinché noi possiamo sviluppare con Flutter. Queste sono le icon per iOS. Qui, per quanto riguarda il test, il link, non so se qualcuno di voi già sviluppa con Flutter, l'int serve per avere un controllo semantico di come viene scritto il codice. Qui ci sono gli assets, nel corso della serata, dovremo riuscire a vedere anche questa sezione qui, vediamo dove arriviamo, ovviamente. I fonts, nel caso cui abbiamo fonts, eccetera. La parte più importante che non vedremo questa sera sono le dipendenze. Ok? Quindi, quando vorremmo andare ad aggiungere dei pacchetti, le dovremmo andare ad aggiungere qui dentro. Ok? Però, questo è un attimo l'excursus. Dopodiché, tra le varie cartelle, una che ho tralasciato, il lib. Qui c'è questo main dart. Come vedete, main dart, andato chiudiamo il resto. Come vedete, main dart, ecco, questo è codice d'art. In particolar modo, qui stiamo usando il pacchetto flutter. Ora, tralasciando un po' il resto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare, perché ho appena installato Android Studio, sarà quello di andarsi a creare una macchina virtuale. Ok? Ora, io qui ne ho già quattro, però, vi faccio vedere come si fa. qui scelgo il più, creo un virtual device. Qui, praticamente, questi qui sono delle impostazioni delle macchine virtuali. Potete anche crearne voi. Ad esempio, io, se non sbaglio, ho creato iPhone 8. Non è un iPhone, vi ho detto prima che su Windows non si può sviluppare per iOS, però cosa ho fatto? Ho cercato di riprodurre un layout che fosse come quello dell'iPhone 8. Ok? Ora, se seleziono, ad esempio, uno di questi, diciamo, questi modelli, come vedete, mi fa vedere quant'è in larghezza, 411 pixel, in altezza 891, mi dice il size è normal, qui posso modificare il device, però lo lasciamo così. Andiamo a fare next. Qui mi dice qual è la release. Allora, sulla base di quelle che abbiamo installato prima, su quelle che abbiamo installato quando vi ho fatto vedere prima nella sezione dell'SDK. Ok? Quindi quel tools che abbiamo detto, io ne ho scaricati due, infatti vedete, ho la app, l'APLivel 33 e l'APLivel 31. Ok? Magari lo vedremo più avanti di capirci meglio cos'è l'APLivel. Ora, selezioniamo tiramisù, ad esempio, qui abbiamo gli SDK raccomandati oppure le varie immagini. Ok? Selezioniamo tiramisù. Andiamo a selezionare tiramisù. Qui mi dice di creare il nome della macchina virtuale, del emulatore di telefonino virtuale che abbiamo qui. Qui possiamo mettere, ad esempio, Twitch. Ok? Qui, ovviamente, posso cambiare il modello. Questo tiramisù, quindi Android 13. Lasciamo tutto quanto così. Non... Andiamo a vedere il settaggio ulteriore. Facciamo finish. E lui creerà... Eccolo qui. E la nostra... Il nostro emulatore Android nuovo. Ok? Se adesso premo qui. Ok? Passa su Running Device e a questo punto guardate un po'. Qui avremo il nostro emulatore Android. Qui vedete abbiamo l'emulatore Android e ovviamente funziona come se avessimo un Android. Quindi come se avessimo adesso qui il Bluetooth è andato male. Vabbè. E funziona, vedete, abbiamo il nostro emulatore Android. Vabbè. Qui sta ancora finendo di installare. Qui abbiamo dei tasti ad esempio dei tasti fisici perché possiamo anche determinare se il nostro emulatore ha i tasti fisici oppure no. Possiamo ad esempio fare lo screenshot e attivare... Vabbè. Qui si è attivato lo screenshot della schermata oppure fare la registrazione dello schermo. Ok? Adesso come vedete qui ho selezionato l'iPhone 8. Qui adesso per il momento ignoriamo ignoriamo quello che c'è scritto qui. Adesso andremo a vederlo ma per il momento lo ignoriamo. Ok? Quindi che facciamo? Facciamo semplicemente lanciamo qui la nostra applicazione. Come vedremo qui sotto adesso sta facendo delle cose sta praticamente creando una pk una pk però un po' particolare perché non è una pk di release ma sarà una pk di sviluppo. Cosa significa? Significa che lui creerà l'applicazione la rilascerà all'interno di questo emulatore e praticamente rimarrà connesso anche al nostro al nostro Visual Studio in maniera tale che se ci metto ad esempio dei punti di debug o voglio cambiare ad esempio vedete qui adesso c'è scritto flutter demo home page questo è il debug perché siamo in debug qui c'è un pulsante se io clicco va avanti ok ad esempio se io qui adesso scrivo 123 ok salvo e premo questo lampetto qui posso farlo qui o qui automaticamente si aggiorna vedete non ho dovuto ricompilare automaticamente se io qui scrivo twitch ad esempio e salvo premo il lampetto twitch figo no? cioè ho cambiato qui e automaticamente immaginate se invece di averlo nell'emulatore ce l'avessi sul telefonino fisico cioè posso cambiare ad esempio qui posso cambiare il colore in orange ad esempio salvo premo il lampetto e vedo tutto quanto arancione bellissimo senza dover senza dover fare chissà che cosa cioè non devo rideployare l'applicazione se c'ho il dispositivo fisico lo vedo effettivamente all'interno del mio telefonino ad esempio o un telefonino di test ok come vedete c'è l'hotre load abbiamo visto il lampetto che serve questo questo serve per l'hotre start che significa ogni tanto può succedere che l'hotre load possa non funzionare e poi vedremo sicuramente vedremo qualche caso devo premere l'hotre start se lo premo praticamente è come se rilanciasse l'applicazione infatti vedete qui è 0 se io adesso premo ecco sono arrivato a 11 se ricambio il titolo salvo e premo il lampetto è cambiato qui il titolo ma qui è rimasto 11 se adesso faccio l'hotre start quindi rilancio dall'inizio ecco qui qui si è risettato ok questa era una panoramica iniziale su flutter ok quindi abbiamo visto come configurare l'emulatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti